Dopo il riallineamento dei dati contenuto nel report di ieri, l'ASPE di Agrigento ha diffuso nel primo pomeriggio di oggi il nuovo bollettino sull'andamento epidemiologico in provincia, da cui vengono fuori altri 908 nuovi casi di positività al covid riscontrati nelle ultime 24 ore sul territorio agrigentino. 440 i guariti, 2 i nuovi ricoveri e un decesso avvenuto nel comune di Burgio, dove adesso sono 3 le vittime dall'inizio della pandemia, mentre su scala provinciale i decessi sono saliti a 507. In totale sono 52 le persone ospedalizzate, 27 delle quali ricoverate in degenza ordinaria al San Giovanni di Diodi e Agrigento, 21 al Fratelli Parla Piano, 3 nei covid hotel e un solo ricovero in terapia intensiva al covid hospital di Ribera. Altri 9.958 agrigentini positivi al covid, ma asintomatici o con sintomi lievi, si stanno invece curando a casa. A Sciacca, dove ieri in virtù del riallineamento dei dati è sceso considerevolmente il numero dei positivi, gli attuali contagiati adesso sono 748, cioè 39 in più. 290 a Ribera, 52 a Sambuca di Sicilia, 136 a Santa Margherita a Belice, 70 a Santo Stefano Quisquina, 121 a Siculiana, 28 a Villa Franca Sicula, 80 casi in più ad Agrigento per un totale di 1.382 contagiati, 26 a Burgio, 16 a Calamonaci, 20 a Caltabellotta, 976 a Canicattì, 74 a Cattolica e Raclea, 137 a Cianciana, 1.061 a Favara, 844 a Licata, 35 a Lucca Sicula, 297 a Menfi, 72 a Montallegro, 41 a Montevago. Intanto, in vista della fine dello stato di emergenza, che scadrà domani, 31 marzo, dopo oltre due anni, è stato scelto chi succederà a Francesco Paolo Figliuolo nella gestione della campagna vaccinale e delle misure anticontaggio. Toccherà a Tommaso Petroni, maggior generale dell'esercito, specialità arma dei trasporti e materiali, e già nella struttura di Figliuolo in qualità di responsabile della logistica. Quindi una nomina improntata al principio di continuità. La campagna vaccinale, infatti, deve andare avanti. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto di nomina. Con la fine dello stato di emergenza, la struttura commissariale viene sostituita dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che sarà operativa appunto da venerdì 1 aprile. Vice di Petroni sarà Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute. L'unità sarà infatti composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del commissario e da personale in servizio al Ministero. Dovrà gestire la transizione verso la gestione ordinaria. Dal 1 gennaio 2023 anche il Covid dovrebbe tornare in carico esclusivo al Ministero della Salute.